Il Comune di Castelnuovo Cilento ha scelto di aderire alla rete dei Comuni Amici della Famiglia su sollecitazione del volontariato locale delle associazioni del territorio che si occupano di famiglia e subito abbiamo scelto di aderire perché continuamente ci troviamo di fronte alle problematiche delle famiglie, alle problematiche di un territorio piccolo che comunque vive le difficoltà di tutti i comuni piccoli come lo spopolamento, l'invecchiamento e noi abbiamo deciso di intraprendere un percorso virtuoso sia in termini di politiche familiari prettamente sociali ma anche di politiche abitative, di politiche riguardo ai tributi e alle tasse per agevolare le famiglie del territorio.